buonissimo ringraziamo anche Santa Rita sei comodi Santa Rita che lei non sia nostra giù San Francesco via Santa Chiara dai allora però abbiate pazienza ma loro sono stati bravi hanno fatto tutto l'album però pure noi mica siamo stati tanto cattivi è vero siamo stati bravi pure noi e dai su c'è Pino che sei vestito da angelo e ti ha detto che devi stare qui buono è un angelo un po' discolo questo qua poi c'è Don P.G. chi è Don P.G? Don Pierguido ah Don Pierguido l'angelo con la chi? con la mita come sappiamo l'angelo col telefonino col telefonino l'angelo telefonico adesso dobbiamo dobbiamo premiare tutti però voi dovete sapere una cosa importante che è importante mi ha detto che è un'altra cosa